La stagione delle rivoluzioni segna un momento di rottura nella storia europea, una frattura che permette di distinguere la storia prima del 1848 e la storia dopo il 1848. Si apre un nuovo periodo, il panorama sociale è profondamente cambiato. Nella fase finale dei processi rivoluzionari, seppure segnati dalla sconfitta, ha preso corpo una inedita alleanza tra parte della borghesia e parte dell'aristocrazia, per isolare quelle frange popolari che affermavano richieste di tipo sociale. In Italia si stringono sul piano diplomatico e militare i rapporti tra l'impero austriaco, che controlla direttamente più di un terzo della penisola, e la Santa Sede. L'Austria appoggia quindi la restaurazione dell'assolutismo papale nello Stato Pontificio. Nel Lombardo-Veneto il regime rimane oppressivo, anche terminata la fase più dura della repressione. Non diversamente accade nel Regno delle Due Sicilie, dove Ferdinando II può ripristinare l'assolutismo, senza aiuti esterni, provocando però il distacco definitivo degli intellettuali, costretti all'esilio o imprigionati, oppure ridotti di nuovo all'attività clandestina, e lasciando irrisolto il problema della Sicilia, riconquistata solo militarmente. Il peso dell'influenza austriaca si dispiega interamente a Modena, a Parma e a Firenze, anche se nel Gran Ducato la repressione è più mite che altrove. Differente è la situazione nel Regno di Sardegna. Qui, infatti, l'adozione di politiche a favore del libero scambio e i forti investimenti pubblici nel campo delle infrastrutture creano le premesse di un periodo di sviluppo. Non meno importante risulta la conservazione, dopo la stagione del 1848, delle garanzie costituzionali e delle libertà statutarie. Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono all'impotenza. Maturano da qui in avanti le condizioni di un equilibrio politico più avanzato in senso liberale, il cui esito è la nascita di un accordo politico tra il centro-destro, la cui guida agli inizi degli anni 50 passa a Cavour, e il centro-sinistro guidato da Rattazzi. È il connubio, un'alleanza che è tra due forze politiche, ma anche tra due blocchi sociali. La parte più dinamica della nobiltà è la borghesia agraria, mercantile e delle professioni, i cui interessi coincidono con la politica economica realizzata da Cavour. Questo progetto sociale trova una perfetta incarnazione in Cavour, figura chiave di questo decennio. Prima come ministro delle finanze durante il governo di Massimo D'Azeglio, poi, come primo ministro, Cavour sostiene una politica centrata su provvedimenti liberistici e sul potenziamento delle infrastrutture, favorendo così lo sviluppo dei vari settori economici del regno. Questa strategia di sviluppo è finanziata con una nuova e più pesante politica fiscale. Una vignetta mostra la società piemontese decisa a non farsi sfuggire la locomotiva del progresso, ma ancora più chiaro parlano i dati. La rete ferroviaria ha una crescita impetuosa. Alla fine del 1848 in Piemonte si contavano appena 8 km di ferrovia in esercizio. Nel 1859 saranno 850. Gli investimenti nelle infrastrutture comprendono anche i collegamenti stradali, i canali, nonché l'avvio dei lavori del grandioso tunnel del Frigius. Il regno di Sardegna esercita infatti una grande forza di attrazione su decine di migliaia di esuli dagli altri stati italiani. Patrioti, esponenti dei governi, dei parlamenti e delle gerarchie militari del 48 e del 49, giornalisti, scrittori, scienziati, avvocati, economisti, giuristi. Il fenomeno fa comunque di Torino la capitale politica di un'Italia ancora da unificare e nella Camera, nei giornali, nei circoli, nell'alta cultura, comincia ad amalgamarsi la futura classe dirigente. E controversa è anche la decisione del primo ministro di partecipare alla guerra di Crimea. Decisione che manda a morte certa centinaia di giovani piemontesi e sardi, che aggrava le finanze pubbliche, che sembra mettere il Piemonte a fianco dell'odiata Austria, ma che si rivelerà fondamentale per la questione italiana. Grazie!